Magnifico lettore, autorità, illustri colleghi, studenti, signori e signori. Una laurea non riscausa è un avvenimento raro e speciale nella vita di una comunità accademica e viene decretata dopo un lungo percorso di riflessione e discussione al suo interno convalidato anche da esperti di altri segni. Con questo atto l'università intende dare risalto all'insieme delle attività di una persona che per competenza e per capacità, per sapere e saper fare, è stata in qualche misura maestra. In questo caso è anche il segno del legame speciale tra questa università e il territorio che la ospita e la alimenta perché Perino Burba non solo qui è nato, che è vissuto e qui vive, ma rappresenta bene l'archetipo della gente di questa terra, del suo essere scrivo, serio, impegnato, appassionato del suo lavoro.